Oggi ultimo giorno di scuola, finalmente dicono i ragazzi, finalmente diranno anche i docenti. Ma che anno è stato per questi ragazzi? Terremoto, nevicate e poi tanti altri problemi che li hanno anche costretti a casa per lunghi periodi. È stato un anno, io lo chiamo anno sorribilis, perché è un anno difficile, molto difficile per gli eventi che conosciamo, però i ragazzi e i docenti, il personale, tutti hanno reagito in maniera straordinaria e quindi abbiamo conservato sempre saldezza di nervi, il sorriso e i ragazzi sono venuti fiduciosi nonostante le problematiche note e quindi io sono felicissima di tutto questo perché tutta la comunità scolastica è stata accanto al dirigente e questo è importantissimo. Ma quanto e se hanno risentito di tutti questi giorni di vacanza? In realtà, ecco, a parte che dopo lo diranno i ragazzi, insomma, cioè i docenti hanno portato a termine i programmi anche perché poi con i mezzi informatici moltissimi hanno segnato i compiti, mandato le lezioni quindi diciamo che il problema non c'è stato, per fortuna. Per i ragazzi più studiosi, quelli probabilmente un po' meno studiosi hanno approfittato per riposare. In realtà, insomma, quelli poco studiosi sono proprio pochi, devo dire, perché, insomma, i ragazzi si impegnano tanto questo lo devo riconoscere non solo nell'attività scolastica ma nelle attività extrascolastiche cioè questi proprio veramente sono lodevoli. Io sono felicissima e non ho mai alcun conflitto con loro proprio perché hanno questa disponibilità proprio, la volontà di arrivare e di fare, non solo di sapere ma anche di fare. Questo è molto importante. Presidente, cosa pensa che eventualmente un occhio di riguardo anche per questo periodo non troppo felice per i ragazzi ci possa essere? Hanno già avuto la commissione interna, insomma, quindi più di questo. Cioè il ministro veramente, quando è venuto qui a Isola del Gran Sasso, i ragazzi della Giunta, il nostro presidente di Giunta ha fatto questa richiesta, ha presentato una richiesta per la commissione interna. Quindi l'hanno ottenuto, insomma, io penso che andrà tutto bene, non ci sono problemi, insomma. Poi loro studiano, i ragazzi si impegnano, quindi problematiche non ci sono.